Buongiorno e tintrote! La nostra Sofì sta ancora dormendo Che sonno! Svegliarsi in vacanza è bellissimo perché non c'è orario Non abbiamo nessuna sveglia e ci possiamo alzare quando vogliamo Solo che io mi sveglio sempre prima di Sofì Guardatela, lei è ancora lì che dorme beata Mentre io sono già sveglio e mi annoio E quindi la prima cosa da fare in vacanza è svegliare Sofì 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 Ti dovresti svegliare, è giunto il momento di svegliarsi Dormi anche tu Ma Sofìna? Dormi! Ma non già voglio di dormire Non mi interessa Ditemi voi, cosa devo fare? La lascio dormire? O la svegliamo? Penso sia proprio il caso di svegliarla Anche se so che si arrabbierà tantissimo E uno E due E tre Buongiorno ragazzi amina Calmati, calmati Buongiorno Ma è normale che una in vacanza non può neanche dormire fino a tardi Ma vedi che è già tardissimo Sono le otto Le otto? Io in vacanza voglio dormire fino alle undici Che fai? No, no, no Non puoi riaddormentarti Non vale Ma solo io penso che i letti quando si è in vacanza siano i più comodi del mondo Io non vorrei più svegliarmi E comodissimo sembra di dormire in una nuvola Non credi? No, a me sembra più di dormire sul tappeto elettico Ma è possibile che di prima mattina hai così tanta energia? E certo, ho dormito tutta la notte Su, svegliamoci Ma che ne diresti che tu arrivi a fare una bella passeggiata E io nel frattempo continuo a dormire? Secondo me è una bellissima idea Non penso proprio Ti dovresti alzare e divertirti con me Sai cosa faccio? Cosa fai? Ti butto dal letto No, 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 no Oh, che sbattuto la testa Ci possiamo alzare adesso? Tanto sei già sveglia Ok, mi alzo ma sarò io Quella che utilizzerà per prima il bagno Ok, basta che ti alzi Ciao a tutti E lei, Zofì E insieme siamo in me contro te Come vedete mi sono alzata alla fine, ok? È tutta una questione semplicemente di alzarsi dal letto Una volta che ci si alza poi non si percepisce più il sonno Oggi è un giorno davvero super importante perché abbiamo ufficialmente finito le riprese del nostro film Cioè ieri è stato l'ultimo giorno sul set in cui abbiamo registrato la nostra avventura col Signore S Beh, contro te il film, la vendetta del Signore S Da venerdì 17 gennaio 2020 al cinema Se ci seguite su Instagram già lo sapevate Ma per chi non ci segue lì Sappiate che venerdì 17 gennaio 2020 è la data di uscita del nostro film A brevissimo vedrete anche il trailer E potrete avere qualche anticipazione su questa meravigliosa avventura Che credetemi è super pazza, è incredibile Ma c'è ancora tempo per parlare del film Oggi infatti non ci troviamo né a Roma né a Milano Ma bensì a... Siamo qui per farci appunto una piccola vacanzina e goderci la stagione di Halloween Infatti in questi giorni vedrete dei vlog divertentissimi che faremo qui Travestiti da Halloween Perché una di queste sere ci sarà una festa a tema Halloween Che ci hanno detto sarà fantastica Comunque nel video di oggi vi faremo vedere la nostra morning routine in vacanza Come avete visto a differenza dei giorni comuni Non ci svegliamo col solito suono della sveglia fastidiosissimo che fa Ma ci svegliamo quando ci pare O meglio lui si sveglia quando gli pare Io poi sono disturbata da lui che salta sul mio letto e che mi sveglia Mi sembra normale? E certo perché in vacanza ogni giorno è importante e bisogna divertirsi Smettila lui non si può saltare nei letti Ok L'ho visto che quello era un saltello finale Una cosa bellissima dell'essere in vacanza è che non devo rifare il letto Quando mi sveglio normalmente una delle prime cose che faccio è rifarlo Nei minimi dettagli perché come sapete mi piace l'ordine Però quando sono in vacanza mi rilasso perché c'è sempre qualcuno che lo fa al posto mio Ed è fantastico Essendoci in camera un solo bagno dobbiamo fare carta forbici a pietra per chi va per primo Carta forbici a pietra Sofì non vale così Mi dispiace Apri subito Sì sì come no Sentite il rumore dell'acqua? È già entrata nella doccia Ci starà un'ora Aiuto Che noia Ok Ha finito Ha finito Bene ho finito Ma cosa hai fatto un'ora in bagno? Mi sono fatto un bel bagno rilassante Questo che faccio in vacanza Non faccio la comune doccia che faccio tutti i giorni Faccio il bagno con i seri da bagno Le bombe da bagno Guardate che sono profumata Non me ne importa un figo secco Mi hai fatto aspettare due ore Tu adesso mi odori Profumatissima Grazie per il complimento volontario Sono molto felice Ma aspettate vi mostro il bagno Guardate che carino Sembra il bagno delle principesse C'è una rosa gialla E poi soprattutto ci sono due lavandini Così io avrò il mio bella tranquilla E lui avrà il suo Dove potrà fare disordine Poi come vi dicevo c'è una meravigliosa vasca Dove ho fatto il mio bagno rilassante E infine c'è un water Che secondo me è quello dei nanetti E cioè? Che water sarebbe? Guardate quanto è piccolo Effettivamente è piccolissimo È minuscolo E ci sono anche io lì Ciao Ciao Dai se ti vuoi lavare comunque adesso puoi Ok Io vado a truccarmi Ciao 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 Et voilà Viola Come il colore del male Di Halloween E io Giallo Il colore Preferito di Sophie Adesso è giunto il momento più importante di tutta la giornata Cioè la colazione Qui a Disneyland c'è una colazione molto molto buona Un buffet pieno Ricco di cose buonissime Adesso andremo Vi porteremo con noi Ma prima mio caro Louis Devo prendermi il caffè Quindi scusa un attimo Ma Sophie Ma Sophie tu non hai mai preso il caffè al mattino Perché non ho mai avuto una macchinetta del caffè in camera Adesso che ce l'ho qui in vacanza ne approfitto no? Ok fai pure Sai come funziona? Sì Certo Switch on the machine Ci stai leggendo Mi sa che prima dovresti mettere la capsula Lì E io non ho la capsula Mi serve una capsula Mi serve una capsula Signori Mi serve una capsula Ma dove la stai cercando? Calma è qui Deve essere nella camera Nella camera? Nella videocamera? No qui Aspetta Prova a dare un'occhiata qui dentro Oh sì Oh sì Ma Calmati Ancora non hai preso il caffè Immaginatevi quanto sarà pazza dopo C'è di tutto Signore Lei lo vuole il caffè? Come lo vuole? No mi fa schifo adesso Sei caffeinato con latte Nessuno dei due No devi prenderlo Va bene Fallo normale come vuoi Le capsule viola Ovviamente è di Halloween E Si mettono qui Allora Questa per te E questo per me Ma come? Il calice? Il calice per prendere il caffè Sai com'è? Sono una grandonna Sono una dama Ma Sophie non puoi prendere il caffè lì dentro Una principessa Ma le principesse non prendono il caffè Ok ci siamo Wow ecco il caffè E' buono? Devo per forza berlo? Certo l'hai voluto tu Hai detto che è buonissimo E non riesce a stare senza caffè A me il caffè in realtà fa schifo Ma allora perché hai fatto quella schifezza lì? Perché ne vedo sempre fare a tutti Allora volevo provarlo Di solito gli adulti lo bevono Ma come fanno a berlo? Non lo so So solo che sei pazza Andiamo a fare la vera colazione Che forse è meglio Colazione Guardate qui che bontà Abbiamo Latte Con tanto di cereali aggioccolato A forma di barchetta Ma non è latte normale E' latte di cocco Che bontà E poi un buffet Dove adesso verserò la mia amata Nutella Premuta d'arancia E un dolce caffè latte Io invece per la mia colazione ho preso Dei pancake Veramente buoni Non come quelli che fa Sophie Non sta per distruzione Ah divertente E poi un waffle E questa specie di coso con la marmellata Buono Sembra molto buono Poi ho preso la stramuta d'arancia E adesso arriva il cappuccino Quindi Team Trotte Speriamo l'avventura di oggi vi sia piaciuta Noi adesso ci facciamo questa bella colazione E ci godiamo la nostra vacanza qui a Disneyland E noi ci vediamo domani con un'avventura Ciao Ciao